I due co-direttori di Dragon Age Viola che hanno rilasciato queste interviste durante un podcast si chiamano Corinne Busquet e John Epler e ci hanno spiegato perché Bioware ha avuto un periodo di confusione generale mentale che poi finalmente è stato recuperato grazie alla stellare qualità di questo titolo Allora, quindi Epler, dice qui, un veterano di Bioware di 17 anni ha detto che il punto di focus dello studio di sviluppo con Veilgard Veilgard è ovviamente Dragon Age Viola è stato di spingere in maniera deliberata per tornare a quelle che erano i veri e reali punti di forza dello studio nel character building, quindi costruzioni del personaggio Ma stanno dicendo vero? Sta cosa inutili E nello storytelling Cioè, è questa testa di c***o che ha 7 anni di non so che cosa forse di di super il c***o fino al gomito Non ha lavorato ai primi Dragon Age Non si ricorda che non c'entrano un c***o Cioè, sta dicendo Se portate che hanno fatto con i neon negli occhi Sta dicendo, sì, lo abbiamo fatto apposta è stato completamente deliberato siamo tornati ai nostri punti di forza La costruzione del personaggio E ovviamente tutti in questo momento state pensando alla tizia con le corna che durante un passo a caso ti dice Comunque, sono non binaria E ovviamente lo storytelling Allora ragazzi, se voi seguite le live che facciamo di Dragon Age Viola alcuni di voi seguono le live mentre lo sto giocando Noi ci scherziamo nel senso che tante volte non seguo quello che si dicono Altre volte sono distratto Altre volte parlo con voi, eccetera Ma tra tutte le distrazioni, tutte le confusioni E tutti i salti E la mancanza di attenzione Ho notato una cosa Nello storytelling di questo gioco E l'ho notata soltanto l'ultima volta che ho giocato Dragon Age Viola Non ha mai Sotto testo Parlano sempre In una maniera estremamente lineare Diretta Chiara E semplice Non c'è mai un personaggio che dice qualcosa Per lasciare intendere che sta pensando qualcos'altro Che sta vivendo qualcos'altro O che ha qualcosa in mente che in quel momento lo sta turbando Dice semplicemente frasi che descrivono una situazione Descrivono un'azione Descrivono una volontà Che è la cosa più sbagliata che si possa fare in drammaturgia Non sono esperto Io scrivo un pochino Ma non sono sicuramente uno scrittore professionista e cose del genere Ho letto qualcosa Ho studiato qualcosina Non si scrive nel modo in cui loro hanno scritto Dragon Age Viola Quando loro parlano qua di storytelling Quello che c'è in Dragon Age Viola non è storytelling È interazione tra personaggi Quando c'è Kratos In God of War Che parla in un certo modo Criptico O semplicemente utilizzando il minor numero di parole Per lasciare intendere che c'è un conflitto interiore Qualcosa dietro Che magari non vuole esprimere in maniera esplicita Quella è la maniera in cui si scrive Zeus tu l'hai fatto tutto mi sembra Sì Sì Purtroppo sì Mi dai Una cosa che succede solo con Solas Ma per ovvi motivi Ok Con Solas forse qualcosa c'è Qualche sfumatura c'è La cosa è talmente palese Talmente svergognata Che nelle romance I personaggi Ti dicono subitissimo Cosa vogliono fare con te Pisello Ti dicono Voglio baciarti Posso baciarti? Ti dicono questo Perché ti chiede il consenso Sì Ma sempre Cioè non c'è Un cazzo di sottinteso in tutto il gioco Tu capisci tutto Te lo sbattono in faccia Fino alla morte E i personaggi parlano come Se fossero dei robottini Allora Epler quindi è molto contento Di quello che hanno realizzato Lato character building e storytelling Dopodichè spiega Qual è stato il problema Degli ultimi anni Ha detto Abbiamo avuto Un open world Con Mass Effect Andromeda Che era una moda del momento Per l'industria del gaming In quel momento In quel periodo Ma che per qualche motivo Comunque in qualche modo Ha diluito Il nostro punto di concentrazione Il nostro focus Quindi dovevamo concentrarci Su determinate cose Come il character building In cui siamo straordinari E lo storytelling Ma purtroppo C'era l'open world E ci ha distratti Dopodichè dice E abbiamo avuto Anthem Che era un live service Che ha diluito Il nostro focus Quindi lui dice Che praticamente Loro sono sempre stati straordinari A scrivere personaggi È colpa mia È colpa degli altri Sì Sono sempre stati straordinari A scrivere personaggi E a fare storytelling Ma purtroppo Studio di sviluppo Quando ciò che creavamo Quando ciò che creavamo Sui personaggi Sui personaggi Bello Negli ultimi 17 anni E mi fa veramente strano Una serie tv di un episodio Nel 2024 E basta Quindi questo qui Che mi parla di Bio per 17 anni Questo qui Non ha Non ha Non ha fatto un cazzo Da quando è in Biover Ad adesso Non ha fatto niente E quando parla di Che cazzo è che diceva Diluire L'unica cosa che hanno diluito È lo staff Che non c'è più Tra l'altro Questa news L'ho letta su Eurogamer Eurogamer ha messo 10 Se non ricordo male A Dragon Age Mamma mia Che schifo E infatti poi Continuando a leggere Quest'articolo Continuano loro dicendo Sì in effetti È stato un gioco fantastico Resulting In The Brilliant Dice Alla fine Questi 10 anni di sviluppo Si sono concretizzati In questo brillante RPG Single player Che è stato rilasciato Brillante Sì Lasciamo perdere I criteri di valutazione Di Eurogamer Che comunque sono Quelli che hanno dato 8 a Baldur's Gate 3 Giusto per fare un esempio Sempre in termini di RPG Ok Hanno dato 8 A Baldur's Gate 3 E 10 A Dragon Age Viola Basta Non credo serva Altro